Arrestati dalla polizia, tre pregiudicati rumeni per il furto di cavi di rame, è successo alla periferia di Caltanissetta, incontrata a Grotta d'Acqua, dove i tre giovani sono stati sorpresi in flagranza di reato dai poliziotti della sezione volanti. Si tratta di Turceo Sorin, di 20 anni, Apetrico Sella Andrei, di 24 anni, e Capra Giorgio Alexandru, di 18 anni, tutti residenti a Ravanusa. Attraverso l'uso di troncabulloni, isolato da tubi di gomma, uno di essi si arrampicava su di un traliccio, con l'ausilio di una cinghia posta lungo la vita, tagliando il cavo elettrico ad un'estremità, per poi ripetere l'operazione nell'altra estremità posta su un altro traliccio, mentre i complici raccoglievano il cavo dal suolo. All'arrivo dei poliziotti, i tre malviventi avevano già tagliato circa 200 kg di cavo di rame puro, lungo circa 1500 metri, da nove tralicci dell'Enel, posizionando le matasse formate su di un'autovettura Volkswagen Passat. La perquisizione ha consentito di sequestrare anche un taser o storditore elettrico, usato probabilmente per difendersi da animali randaggi, visto che le operazioni venivano effettuate in ore notturne. Lo scorso agosto i tre erano stati sorpresi in provincia di Agrigento, mentre commettevano lo stesso reato.